Brauf, puoi rispiegarci il concetto del galeotto nello spirito dantesco? Sì, perché non abbiamo capito quest'ultimo passaggio e volevamo prendere appunti Per due mesi siamo messi Vai! Momento paraculo, finito Per il filosofo, la vita è sofferenza Mamma mia, bravo! Brossaletti, bravo! Brossaletti, bravo! Ma perché non ci scediamo un bell'una parte? Beh! I sogni sono desideri Chiusi infondo al fio No, no, no... No, no, no... No, no! È che stavamo facendo un reassunto delle volte pubbliche La moglieять forever, she and we'll care Qua lei deve essere la catarca del mondo è O non sai che domande o non sai cosa ho... Sorry prof Sorry Sorry prof, sorry prof Oh sorry, sorry prof Sorry prof Ma perché dobbiamo studiare il latino? Perché è una lingua mossa E noi che ci dobbiamo fare l'autofia Aspetta, l'ho capito, dimmi il passato L'ultimo passato, l'ho capito La professoressa Apri parentesi La professoressa la cancellata La professoressa la cancellata La professoressa la cancellata La chiamata C'ha visto nessuno? No Matti, Matti, dimmi tutti Dimmi di te La professoressa con lei E roba il solezza Roba il solezza Un talento che mi ha contato Ehi, quattro il fitness